Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess, io sono Erika, siamo nuovamente allo stand di Lenovo e questa volta voglio parlarvi di Lenovo Yoga 920, il nuovo arrivato della famiglia Yoga. Prima però, sigla! Eccoci qua in compagnia di Lenovo Yoga 920. Come vedete, come vedete, non lo so se lo vedete, però ve lo dico io che lo sento. Questo è alluminio, è realizzato interamente in alluminio, questo bellissimo PC, ha la solita cerniera classica dei dispositivi Yoga di Lenovo, quindi si piega tutto, potete fare veramente quello che vi pare. Lo schermo è da 13,9 pollici, è disponibile in due versioni diverse, avete la versione in 4K e la versione in Full HD. Cosa cambia? Ovviamente al di là della risoluzione vera e propria, la scelta del display andrà a incidere anche sulla batteria, quindi con un Full HD arrivate più o meno a 15 ore e mezza, invece con il 4K avete tra le 10 e le 11 ore di autonomia. La configurazione però è identica per quanto riguarda l'hardware sotto la scocca, troviamo un processore Intel Core i7 di ottava generazione, quindi l'ultimo arrivato tra i processori di Intel. La memoria RAM parte da 8 GB arriva fino a 16, mentre per quanto riguarda la memoria interna abbiamo un SSD da 256 GB per la versione base, ma potete arrivare anche a 1 Tera se avete bisogno di un sacco di spazio per tutti i vostri file. L'audio è affidato alla tecnologia Dolby Atmos, è compatibile ovviamente anche con la Lenovo Active Pen 2, che ha più di 4.000 livelli di pressione, quindi potete disegnare quello che volete se siete degli artisti veri, non come me, potete fare veramente delle cose bellissime o prendere degli appunti super raffinati. L'ultima cosa che volevo dirvi di questo Lenovo Yoga 920 è che esistono anche delle versioni di design, che hanno praticamente il vetro sopra. Un esempio è quello di Star Wars che è bellissimo, praticamente c'è una stampa sotto di qualità fotografica e poi sopra è stato applicato questo vetro che ovviamente è un Gorilla Glass, così non si rompe niente. Direi che vi ho detto tutto per quanto riguarda Lenovo Yoga 920, adesso vado a convincere Fiona a regalarmelo per Natale, mi ha già detto di no, ma io sì, sì, non ti regalo niente. No, no, mi regali delle cose. Noi ci vediamo al prossimo video, adesso vado a fare opera di convincimento a Natale e poi ne riparliamo. Ciao!